ciao amici benvenuti in un nuovo video come forse saprete con questi video andiamo a scoprire l'origine di molti comuni modi di dire vi lascio tutto in descrizione come al solito cominciamo numero 1 di primo acchito è un modo di dire ricercato che serve per indicare che una certa azione avviene subito immediatamente l'origine è davvero particolare il termine acchito deriva dal francese ed è collegato al gioco del biliardo nello specifico si riferisce a un modo specifico di iniziare la partita dopo aver collocato palle pallino è quindi la prima mossa che viene fatta immediatamente all'inizio della partita numero 2 essere un luminare è un'espressione usata in riferimento a persone che hanno comprovate conoscenze e esperienze in una specifica materia come possono essere ad esempio la medicina l'astronomia o altre la parola luminare ha significato di luce o lampada l'idea è quindi che la conoscenza di questa persona è talmente ampia è sviluppata da illuminarle metterle risalto rispetto a tutte quelle che le stanno intorno o che si occupano della stessa materia numero 3 senza ombra di dubbio è un modo di dire molto comune lo usiamo quando vogliamo sottolineare la certezza di un'affermazione con frasi come lo dico senza ombra di dubbio per esempio ovviamente in questo caso il significato di ombra non è quello a cui siamo abituati non è un discorso legato alla presenza di una zona più scura perché non illuminata dal sole infatti usiamo questa parola per indicare una quantità erisoria quasi nulla per evidenziare che non c'è proprio alcun dubbio in preposito numero 4 convitato di pietra è un'espressione che si trova spesso nella terminologia giornalistica viene usata per descrivere una presenza invisibile inquietante di cui tutti sono a conoscenza ma nessuno nomina per paura può essere anche una situazione spiacevole da affrontare l'origine di questa espressione piuttosto particolare viene infatti citata per la prima volta in opera teatrale l'ingannatore di sevilla il convitato di pietra nella storia il convitato di pietra è una statua fatta quindi di pietra che si presenta un appuntamento con il protagonista don giovanni dopo il suo invito convitato infatti è l'invitato che prende parte a un pranzo numero 5 costume ad amitico non è un costume da sfoggiare in piazza o in spiaggia o in piscina a meno che non si tratti di luoghi adibiti al nudismo questa espressione infatti non indica un abito da indossare ma di essere totalmente nudi il motivo è chiaramente legato al significato di ad amitico aggettivo che significa di adamo stiamo parlando di adamo primo uomo creato direttamente da dio secondo libro della genesi egli fu creato nudo e tale rimase finché soggiornò nel giardino dell'eden dopo essere stato scacciato insieme a eva cominciò a vestirsi tipicamente l'espressione costume da mitico viene usata in termini scherzosi numero 6 e ultimo essere male in arnese è un'espressione che si usa quando si vuole descrivere una persona che vive in condizioni di ristrettezza economiche si usa più raramente per indicare qualcuno che sta effettuando un'attività senza però avere strumenti e possibilità all'altezza della situazione arnese è un termine che ha origine dal francese è originariamente il significato di armatura si riferisce quindi all'equipaggiamento dei cavalieri si intende ad essere talmente ridotti da avere un'armatura malandata o non averla affatto questo aveva conseguenze dirette sul livello di protezione nel caso di colpi subiti durante uno scontro bene amici anche oggi ho finito conoscevate l'origine di questi modi di dire se si fatemelo sapere nei commenti al prossimo video presto ciao